Che domenica di calcio pazzesca, veramente pazzesca Ieri abbiamo visto due gare in particolare con dei risultati che definire clamorosi è dire poco Il Leicester che batte, anzi strabatte il City di Guardiola E il Bayern che crolla contro l'Offenheim Veramente due gare con dei risultati totalmente inaspettati Quello in Inghilterra un po' meno, quello in Germania nessuno lo avrebbe mai potuto neanche immaginare Il Bayern non sbagliava una gara ormai quasi da un anno L'ha sbagliata in maniera clamorosa, l'ha toppata proprio ieri contro l'Offenheim Bayern che comunque era reduce dalla Supercoppa Europea E non a caso Flick ha deciso di lasciare in panca Lewandowski Ma il Bayern è veramente Lewandowski, dipendente Ieri si è sentita tantissimo l'assenza e a nulla è servita la rete, non della bandiera Però la rete che ha accorciato un po' le distanze e le chimiche Perché poi l'Offenheim esce sul campo ancora più determinato Ha resistito bene agli assalti bavaresi e sul fine della gara ha fatto anche due gol Con Kramaric, comunque il primo gol dell'Offenheim è molto bello Ma la perla vera e propria del gol di Dabur Che fa una giocata straordinaria Manda al bar tutta la difesa del Bayern che veramente nulla può fare E poi Chimic accorcia le distanze e segna nel secondo tempo due gol Kramaric e due gol che sigillano questo match Veramente pazzesco Comunque io ho fatto sempre i complimenti a Flick perché mi sembra uno degli allenatori non solo più promettenti Ma anche più bravi attualmente sul panorama europeo Però ieri ha sbagliato, è vero Lewandowski non può giocare 40 partite a campionato Però tenerlo in panca ieri, così facendo questo turnover Secondo me si è rivelata una scelta sbagliata E ovviamente è facile parlare col finno del poi Però non può lasciare in panca un giocatore così importante Anche perché l'Offenheim negli ultimi anni, dopo l'addio anche di Necklesman Si è un po', comunque è andato un po' peggio, diciamocelo chiaramente Non è più l'Offenheim due o tre anni fa Però rimane una squadra con dei ottimi singoli Ecco Kramaric è uno di questi Kramaric comunque è un ottimo attaccante Uno, non voglio dire migliori in Germania Però è uno comunque molto forte Che nonostante l'età riesce sempre a regalare gol alla sua squadra E quindi tu non puoi fare turnover in una gara del genere Poi non cambia tanto Perché comunque il Bayern rimane la strafavorita Per il campionato per la Bundesliga E per la vittoria della Bundesliga del piatto Però diciamo che questo passo falso È un classico incidente di percorso Però poteva in qualche modo essere evitato Con un turnover un po' meno acceso Un po' meno comunque forte Il City invece in Inghilterra Parlando del calcio inglese Crolla contro il Leicester All'inizio apre le danze un ex Leicester Una delle stelle del Leicester Di Ranieri Segna Mares Apre le danze Adesso Mares ovviamente è con il City Poi segna Vardi Quindi se gli danno battaglia in campo I due centravanti Non centravanti però I due attaccanti di quel Leicester Che fece il più grande miracolo Della storia del calcio Poi nel secondo tempo Quindi a fine primo tempo È 1-1 con due squadre Che si raggiocano a viso aperto Il City parte bene Però poi dopo il gol di Mares Veramente calano molto i ritmi del City E lasciano molto spazio Quelli del City All'Eyster Che comunque riesce a gestirsi bene Riesce a dare anche dei fastidi Alla squadra di Guardiola Nel secondo tempo Poi succede veramente L'impensabile Vardi fa impazzire tutti Fa impazzire noi neutrali Fa impazzire ovviamente I tifosi del Leicester Fa impazzire tutti Le Foxis in primis Segna due gol Uno sul suggerimento Su assist di Castagna E uno sul calcio di rigore Mi sono scordato di dire Il primo gol Si è sul calcio Di rigore E anche questo qui Il primo gol Quindi Vardi fa doppietta Due gol Sul calcio di rigore E uno su azione Poi c'è anche la rete del 4-1 Accorce le distanze A che Ne ho acquisto Delle City Mi sembra dal Boardmont Però non sono sicuro Comunque un difensore Strapagato Veramente strapagato Adesso il City è prossimo Anche a chiudere per Diash Del Benfica Però spendono e spandono Tantissimo Tanti difensori Coulibaly Era 10.000 volte meglio E forse costava Se non uguale Anche di meno Quindi ragazzi O comunque Se non di meno Uguale al massimo Perché veramente Coulibaly Intorno ai 70 Costa Se di Laurentiis Non decide di farti uno sconto Perché può anche decidere quello Quindi secondo me Il City per il momento Non sta facendo un grande mercato Io ho fatto i complimenti Ai ultimi mercati Del City Da quando Guardiola è arrivato a Manchester Perché da lì Hanno un po' Atrizzato la testa Hanno cominciato a guardare oltre I cittadanti Un po' più indietro E hanno cominciato a giustare difesa Centrocampo Portiere Un po' tutti i departi Però questo mercato Con così tanti soldi Si poteva fare meglio Se volevi comprare Difensori all'altezza Li potevi comprare Spendendo anche di meno E prendendone Alcuni anche di migliori Non so Se siano stati colpiti di picca Per De Laurentiis Che non l'ha lasciato E che comunque ha ostacolato Le trattative Per Coulibaly Però non lo so Veramente Non mi sta piacendo Il mercato del City Comunque stavo dicendo A coce A distanza che E poi il City Scusate Il City Il City crolla Contro il Laser Prende anche Il quinto gol Il Laser Quindi fa fuori Il City Vedremo se quest'anno Il Laser Riuscirà a confermare L'ottima stagione Dello scorso anno Questa Premier Questa Premier Veramente si sta Prospettando Pazzesca Già le prime partite Erano incredibili Come ad esempio Il Tour de Force In quei 90 minuti Tra Bielsa e Klopp Ad Anfield Alla prima Ma anche Mourinho Contro Ancilotti Con Ancilotti Che è partito benissimo Ha vinto la prima Contro Mourinho Ma poi Ha vinto anche 4 Difida con Leverton E veramente Tante bellissime partite E secondo me Le due squadre Rivelazione Di questa Premier Saranno ancora Il Laser E anche Leverton Attenzione Leverton Che potrebbe anche Essere l'outsider Per la Champions League Perché veramente È una squadra Ben strutturata Che ha fatto Un grande mercato A differenza del City Ha aggiustato Con tre colpi Il centrocampo Non l'ha solo aggiustato L'ha reso Un centrocampo Secondo me Anche da quarto posto In Inghilterra Dupure Allen E Ames Sono non funzionali Di più Al gioco di Ancilotti Sono perfetti Per quello che Ancilotti Vuole fare Quindi attenzione A loro Ma attenzione anche All'Aster Di Rodgers Che non è E che non dovrebbe Essere più Una rivelazione Però È una squadra Veramente Ben organizzata Veramente Che gioca bene a calcio Che gioca In maniera ottima Fra seggi Sa fare tutto Sa fare il gioco Il tiki-taka Sa fare i lanci lunghi Per l'attaccante Sa fare tutto È una squadra Che è camaleontica E a me queste squadre Così fanno impazzire Perché non è una Che ha un modulo Ed è integralista Fa solo quello E basta Può adattarsi bene Alle situazioni E questo Secondo me Nel calcio inglese È una prerogativa Indispensabile Perché tu non puoi Andare in Inghilterra A imporre il tuo calcio Ti devi adattare Alle situazioni Alle esigenze Della squadra Ma anche a come giocano Gli avversari In questo Rodgers È uno dei migliori È veramente un mago A Liverpool Ha fallito Ha fallito Perché comunque Quell'Iverpool Così come il Manchester United Di quell'anni Non andò benissimo Andò molto male E quell'Iverpool Rovinò tantissimi Giocatori Però Ha avuto la sua Seconda grande opportunità In Inghilterra L'ha saputo A sfruttare bene Dopo una parentesi Felice Ma non che ci voglia Onestamente Tanto ad esserlo Al Celtic Io gli amo il meglio Perché è un allenatore Che stimo molto Che mi piace molto E che ha saputo Far risorgere Il Leicester Dalle ceneri Del post Ranieri Perché dopo L'esonero di Ranieri Conseguente anche Al passaggio del turno Col Siliglia Il Leicester è un po' Calato a picco Niente di che Un po' di mediocrità È arrivato Rogers E in un paio di anni Li ha fatti risalire Adesso ambiscono Nuovamente Possono Nuovamente Ambire a tornare In Champions League Cosa che fino A qualche Mese fa Neanche tanto Sembrava veramente Impensabile Complimenti a Rogers Complimenti a Leicester Complimenti a Lofinem Veramente Tre partite Anche quella Se ci vogliamo mettere In mezzo Del Manchester Contro il Brighton Pazzesca Veramente pazzesca Gol Dopo il fischio finale Una Premier Mamma mia Ragazzi Veramente Mamma mia Il calcio inglese Quest'anno Si preannuncia Stratosferico Il video è finito Vi ringrazio Per averlo visto Vi ricordo che Se voleste Mi farebbe molto piacere Che lasciaste Un mi piace Un commento E un'iscrizione Al canale Ciao a tutti